ciao a tutti benvenuti al nostro nuovo video oggi c'è uno spacchettamento particolare allora in pratica all'inizio di settembre abbiamo partecipato a un'iniziativa della kinder in pratica acquistando tre pacchi di queste brioche e iscrivendosi al sito abbiamo ricevuto il kit scuola che sarebbe questo appena ritirato stamattina lo apriamo bimbi prendiamo le mister forbici no faccio io prima vi fate male allora il kit scuola togliamo questa plastica vediamo cosa c'è dentro oddio si muove togliamo questi che ci sono i nostri dati via mi dispiace guardando questo video è un po terremoto allora apriamo siete pronti pronti ecco qua kit scuola è vero ecco qua lo questa scatola non serve più che bella si hanno messo hanno fatto proprio la scatola piano un attimo bimbi mamma mia come siete impazziti ecco qua allora cosa c'è un attimo una cosa per voi allora questi non servono no allora cosa c'è in questo kit scuola abbiamo trovato colori colori carioca quanti sono ma saranno da 12 credo poi abbiamo a un porta colori di latta questo è vuoto e un poi tre matite da mettere come le cannucce questo è il portapene guardate che carino il portapene e dopo il regalo abbiamo avuto un quaderno a quadretti piccoli un attimo mamma come andate di fretta vediamo allora questo portapene tre scompattimenti ma siete proprio incredibili allora questo è il famoso quaderno estate a quadrettini da mezzo centimetro con il bordo no vabbè per te ancora presto vabbè userai per fare altre cose allora questo è il nostro acquisto è l'omaggio che abbiamo avuto da dalla kinder anche bimbi mamma mia mamma è pure da santa anno si è tutta la kinder e ferrero allora noi approfittiamo per farvi vedere anche sempre un'altra promozione kinder fatta tempo fa Marika stai calma Dove abbiamo avuto I borsellini Eh si ti ricordi Noi partecipiamo sempre a queste promozioni Kinder E ci hanno dato questi astucci Eh l'altra volta abbiamo avuto Questi qua sono del mulino bianco Del mulino bianco Oddio sto facendo confusione Vediamo Vediamo Sì questo era Oddio Era le avventure del mulino Sì sì abbiamo ricevuto il pennarello E il Borsellino All'interno com'è l'astuccio Ecco Ah ecco io va bene Ho preso i due perché io ho tre figli L'astuccio è dentro così Sì tutto per tre Sì mamma ti ricordi C'era pure un mio amico a scuola Ah c'era anche un po' amica a scuola E questo è il E' un altro regalo che abbiamo ricevuto Della Kinder abbiamo avuto le tazze personalizzate Se andate sul nostro profilo Instagram Riccioli ribelli Ho messo le foto Delle tazze personalizzate Questo è il pennarello Ma questi colori si mostrano in gioco E apriamo E la mettete di voi dentro Su Vediamo come sono Ma questi qua sono i colori carioca Sì carioca sono a spirito Ti ricordi la mia stessa marca che mi comprava me Sì ok Aspetta Marika una cosa per volta Allora nel frattempo Un attimo Marika vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube E veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook Riccioli ribelli family E bimbi state facendo una confusione incredibile Ciao a tutti Bimbi salutate E iscrivetevi al nostro canale YouTube Salutate bimbi E buonanotte a tutti Buonanotte Ciao a tutti Ciao a tutti